Battono tappeto il territorio, i 5 Stelle che stamattina fanno tappa a Messina. Questa riforma toglie potere ai cittadini, mantiene i privilegi della casta, non accelera i tempi legislativi e il risparmio che porta è ridicolo. Se vince il sì, continuerà a governare quella classe politica che ha ridotto così il Paese. Se vince il no, manderemo a casa questo modo di fare politica. Chi sostiene il sì è qualcuno che sostiene il no. Fondamentalmente queste riforme servono a togliere l'ennesimo diritto ai cittadini, quello di votare i parlamentari, trasformandolo nell'ennesimo privilegio da garantire alla classe politica.